ciao benvenuto benvenuta questa è la lucerna di cronos e questa è la rubrica espresso e tarocchi un consiglio per la giornata di oggi mercoledì 9 novembre eccezionalmente oggi senza espresso quindi magari andrò a gustarmene uno al peggio palaia beh ho finito le scialde devo riprocurarmele ma oggi avevo diversi appuntamenti vabbè il giorno della tentazione terrena è definito questo 9 novembre dal libro personology il quale scrive che i nati il 9 novembre avvertano una forte tentazione ad abbandonarsi al qui e ora ai piaceri terreni di ogni tipo ad immergersi in un'incessante ricerca di nuove esperienze sono persone che si fanno conquistare dall'entusiasmo per ciò che portano avanti al punto da non accorgersi che i loro movimenti potrebbero anche essere dettati da forze esterne oppure da quelle che il libro chiama forze oscure in realtà credo si riferisca più alla compensazione delle dinamiche egoiche è una sfida impegnativa quella dei nati il 9 novembre consiste nell'imparare a dirigere le proprie capacità ed energie in senso costruttivo e produttivo la tentazione in se stessa rappresenta spesso un tema dominante nella vita delle persone nate oggi di norma l'istinto etico di queste persone piuttosto sviluppato e perciò qualora commettano degli errori sono pienamente consapevoli di ciò che fanno qualcuno però può raggiungere un punto nel quale trova soddisfazione tanto mentale quanto fisica solo impegnandosi in attività pericolose estreme quando non addirittura liminali uno degli elementi centrali della vita di queste complesse persone la gioia della scoperta con il passare degli anni le persone nate il 9 novembre tendono a sviluppare il proprio lato filosofico e di solito possono anche cedere alla volontà di ritirarsi in una dimensione meditativa a tratti anche solitaria nonostante magari siano comunque circondati da altre persone anche perché in genere sono persone che riescono a raggiungere una buon livello di consapevolezza raggiungere quella che è un po' una sorta di saggezza una buona dose di saggezza dice il libro ma raramente si fermano nel mezzo del loro cammino per correggere la loro direzione quindi preferiscono sbagliare piuttosto che magari mettersi lì ragionarci sopra cercare di aggirare gli errori cercare di evitarli ecco preferiscono sbatterci la testa però sono anche poi consapevoli di come questo serva per la formazione di una sorta di saggezza esperienziale i nati in questo giorno vivono sul filo del rasoio devono imparare a proteggersi e a mantenere il rispetto per se stessi e per i propri simili evitando di diventare una sorta di mercenari dice il libro dei rapporti umani sensibili come sono al rifiuto da parte degli altri corrono il rischio di ritirarsi in se stessi comando anche risentimento paura e persino in casi estremi arrivando a rifugiarsi completamente in una dimensione fantastica i più consapevoli fra i nati il 9 novembre utilizzano spesso la loro relazione con le forze istintuali per individuare quei meccanismi che fanno muovere la vita e l'universo e anche per imparare a condividere con gli altri tali intuizioni quindi sono persone che riescono a portare ad esternare quello che è il loro dialogo interiore quindi a portare il loro messaggio a quella che è la folla attorno a sé le persone attorno a sé il libro paragona queste persone a orfeo il cantore che sale dall'oltretomba i nati in questo giorno proprio come orfeo non devono mai guardarsi indietro ma andare sempre avanti e verso l'alto verso la luce il pericolo maggiore infatti è che essi si fermino che scelgano di non proseguire il loro cammino soprattutto nel campo fisico e materiale e per questo dovrebbero fissarsi alti obiettivi morali ed etici purché terreni i nati il nono giorno del mese sono governati dal numero 9 e dal pianeta marte il 9 è un numero dominatore potente nei suoi effetti sugli altri numeri come ho già detto qualora sia uscito il 9 se si aggiunge il 9 ad un numero qualsiasi il risultato sarà una scomposizione di quello stesso numero per esempio 5 più 9 14 4 più 1 5 se si moltiplica invece il 9 per qualunque numero il risultato sarà una scomposizione del 9 per esempio 9 per 5 45 e 4 più 5 uguale 9 analogamente i nati il 9 di novembre sono in grado di influenzare coloro che li circondano e ciò è doppiamente vero per i nati il 9 di novembre uomini o donne poiché marte il secondo pianeta dominante dello scorpione unita all'influenza di plutone il primo pianeta dominante dello scorpione la spietatezza e la cieca ambizione prodotte da marte risultano accresciute ma accresciuta è anche la possibilità di cambiamenti davvero significativi i pregi delle persone nati oggi sono fisico tenace aperto i difetti sono impulsivo angosciato legato alla materialità il consiglio che il libro personologi dà è coltivate il vostro lato spirituale non limitatevi a godere i piaceri considerate anche gli effetti di tanto in tanto fermatevi e osservatevi con distacco ascoltate la voce interiore e seguite il vostro io più alto il pensiero del giorno è l'atto di soccombere alla tentazione implica molte grande sfide con il tarocco del golden dawn andiamo a vedere qual è il consiglio per la giornata di oggi mercoledì 9 novembre 2022 quale consiglio volete dare alle persone che guarderanno questo video per la giornata di oggi 9 novembre il 10 di bastoni il 3 di denari l'eremita il consiglio di oggi è molto 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 bello la carta del 10 di bastoni è una carta che spesso spaventa spaventa perché una carta che parla di oppressione stanchezza demotivazione una carta che parla della troppa vicinanza ad un'altra persona al punto che spesso questa vicinanza può diventare una catena la carta di chi è vincolato vincolata mentalmente energeticamente alla presenza o al volere di qualcuno quindi una carta che non è fra le carte più ambite da cartomanti o da consultanti in realtà il 10 di bastoni ha un lato positivo di tutto rispetto è una carta di bastoni rappresenta la nostra forza vitale il nostro volere il nostro vigore il nostro fare il nostro agire nel mondo e allora questo agire sia coltivato con determinazione la carta del 10 di bastoni promette ricompense per gli sforzi che si sono fatti è un po la carta del potere quindi il potere non va solo contemplato va anche gestito una buona posizione lavorativa non comporta solo benefici comporta anche oneri una buona posizione a livello sociale ugualmente comporta benefici ma comporta anche oneri la carta del 10 di bastoni su questo non transige quanto è stato il tuo impegno quanto ha gravato sulle tue spalle tanto ti sarà dato ma questo 10 di bastoni associato ad un 3 di denari è un po l'esatto suo contrario laddove il 10 di bastoni è la carta di chi è riuscito a creare o riuscita a creare le maglie della sua rete di successo al punto che talvolta non riesce come abbiamo detto prima a divincolarsi da queste maglie il 3 di denari è chi inizia è chi avvia una trattativa è chi porta un messaggio che fa un incontro non necessariamente legato al lavoro ma alla propria crescita alla propria evoluzione al proprio futuro comprensivo sia della dimensione lavorativa ma sia anche della dimensione della crescita personale o affettiva in alcuni casi è un passaggio fra ciò che hai e ciò che potresti essere e come viene siglato chi è che contempla questo passaggio lo contempla un eremita è un consiglio molto bello quello di stamani noi tutti tendiamo a guardare al futuro ed è sacrosanto che lo si faccia tendiamo a proiettarci nel futuro tendiamo a dire farò creerò andrò contatterò chiamerò ma lo facciamo con l'intenzione perlomeno molti di noi lo fanno con l'intenzione sbagliata quando vuoi raggiungere un obiettivo soprattutto con l'eremita qua di livello materiale perché l'eremita è comunque saturnino associato cronos era un dio dell'agricoltura quindi a tutto ciò che cresce che dà frutto ok è vero devi guardare a dove sei diretto dove sei diretta però devi guardare anche da dove parti perché il succo è questo tu non puoi fare se hai solo la teorizzazione di ciò che vuoi fare tu devi fare con ciò che hai e questo è un insegnamento sacrosanto perché spesso e volentieri anche nei consulti molte persone mi dicono ma se avessi farei se potessi andrei se mi fosse dato no devi dire io sono qui che cosa posso fare il farei l'andrei il viene dopo guarda i risultati che hai ottenuto guarda lo sforzo che hai fatto per arrivare dove sei tu mi potrai dire ma io non ho nulla magari non ho neanche un lavoro bene guarda la tua formazione guarda la tua esperienza e in base a quella fai tira le somme costantemente come fa quest'eremita ma non devi farlo in un momento di farlo costantemente sono arrivato qua ok posso guardare lì arrivo lì ok posso guardare là quindi un po quello che accomuna questo dieci di bastoni carta di fare l'ho detto subito con quest'eremita è che uno è la contemplazione dell'esperienza ed uno è l'esperienza che dà il frutto ed è sono questi due gli ingredienti di un tre di denari guarda è come se fossero le due polarità da una parte abbiamo la contemplazione dell'esperienza e dall'altra l'esperienza che frutta l'unione di queste due c'è un piccolo bruscolino sulla carta l'unione di queste due visioni fa poi germogliare quello che è il frutto e che si proietta poi ancora più alto di quanto si pensi quindi il consiglio di oggi è un consiglio che anche in questo caso richiede molto coraggio va a finire che mi venite a fare un paigliatone perché sono sempre consigli molto forti insegnamenti comunque che richiedono anche una buona dose di coraggio è ok puoi sognare puoi cercare di andare oltre con la mente puoi proiettarti oltre fermo restando che devi fare con ciò che hai e con ciò che sai ed è questo che ti permette il primo passo per andare oltre perché se attendi che sia il destino ad aprirti la porta dell'occasione ma questa porta tu non gli dai una spinta non la cerchi col tuo navigatore animico difficilmente il destino te la farà trovare è un po' anche il discorso della legge di attrazione se tu ti poni nella mentalità di chi inizia a fare le cose arrivano quindi il consiglio di oggi richiede una sana buona dose di coraggio e anche una sana e buona dose di inclinazione al rischio mettersi in gioco e sono due pregi richiederebbe anche un espresso che però non c'è domani torneranno le scialde e tornerà anche l'espresso in presenza sul video oggi me lo andrò a gustare al pub peggio palaia anzi se vieni in toscana ti invito a farci un giro posto meraviglioso io ti ringrazio per aver visto questo video se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva ci vediamo domani per la rubrica espresso e tarocchi ciao